Oltre 100 iscritti di cui 80 operativi, la VAB di Castiglion Fiorentino si sta ramificando anche in Valtiberina ed ora arrivano nuovi mezzi. Qui dietro di me c'è una CM90 che è un camion ex esercito dove ora è allestito a un autobotte, quindi porterà 4000 litri. Poi c'è un pulmino, 9 posti per trasporto persone e un nuovo pick up sempre per antincendio boschivo. La Castiglion Fiorentino è una sezione molto importante che negli ultimi anni ha fatto davvero passo da gigante. È in una zona sicuramente difficile per quanto riguarda soprattutto l'antincendio boschivo e la protezione civile in cui ovviamente la conformità del territorio richiede tanto impegno e soprattutto tanta passione anche a trovare volontari, a organizzarsi. La VAB fa parte della colonna mobile della protezione civile regionale e non è mancato il loro apporto nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Siamo tornati pochi giorni fa dall'Emilia Romagna dove l'alluvione ha rovinato tutto, quindi continueremo le nostre partenze. Anche in settimana abbiamo un'altra squadra in partenza sempre per la zona alluvionata. La VAB Toscana è su due paesi, quindi siamo a Conselice e a Faenza. A Conselice ancora c'è tanta acqua da togliere, invece a Faenza c'è rimasto il fango, quindi due operazioni differenti. A Faenza si lava le strade e si toglie il fango, invece a Conselice ancora siamo con l'idrovore a togliere tantissima acqua.